Da un lato le strade groviera della provincia di Pavia e dall'altro, subito dopo il cartello di Bubbiano, quelle più larghe e asfaltate del milanese. Sembra uno di quei meme che si trovano sui social, ma è la realtà denunciata ai nostri microfoni da alcuni cittadini che abitano tra Casorate Primo e la zona sud della provincia di Milano. Si arriva al confino della strada di competenza di Milano e la strada improvvisamente si allarga e l'asfalto è in condizioni non ottimali, ma sicuramente migliori di quel tratto di strada di competenza della provincia di Pavia. C'è gente che buca anche le gomme, nessuno ovviamente risarcisce e quello che è questo è uno schifo, non c'è proprio manutenzione di niente, noi però le tasse le paghiamo. È la strada provinciale che collega il Pavese con la zona sud-ovest della provincia di Milano, un'arteria molto trafficata, le cui condizioni sono piuttosto evidenti, buche profonde come crateri e totale assenza di manutenzione. Un problema ben visibile anche più a sud, fra Trovo e Casorate Primo. Tornando alla provinciale 163, anche la segnaletica, oscurata dal verde o appoggiata in qualche modo lungo la carreggiata, testimonia lo stato di degrado e di pericolo. L'allarme sicurezza si declina su più livelli di gravità, dalle numerose gomme bucate agli incidenti stradali. Negli ultimi giorni addirittura due in questo punto. La dinamica è più o meno sempre la stessa. I mezzi, soprattutto quelli pesanti, sono costretti a spostarsi sulla propria destra a causa del restringimento della carreggiata e in più di un'occasione finiscono direttamente nel fosso. Sì, la manutenzione praticamente non c'è da tempo. L'unica cosa che fanno è toppare alcune buche che ovviamente quando piove salgono, che adesso è giorno, ma quando è sera, che c'è la nebbia o piove, qui veramente è un'indecenza. Continuano a cadere macchine perché ci sono ovviamente buche o crateri e la situazione è sempre peggio. Io ho continuato a scrivere mail anche alla regione, ma mai nessuno mi ha risposto. Noi la percorriamo ogni giorno e ogni giorno rischiamo di farci del male. Cadono camion, auto, di tutto. Abbiamo visto lo stato di conservazione e di manutenzione della strada, praticamente inesistente. Le auto, come abbiamo potuto constatare durante le riprese, sfrecciano a tutta velocità, nonostante le condizioni precarie della strada e la presenza di questa curva a gomito particolarmente pericolosa, soprattutto quando a transitare sono mezzi pesanti o pullman. Qua passano anche dei pullman, sopra c'è gente. Se il pullman cede appena appena per far passare altre macchine, cede il pullman, cade anche la gente, lì veramente è un danno. Non aspettiamo che ci scappi un orto, perché se scivola un pullman nel fossato, il pullman carico, soprattutto la mattina, carico di pendolari che vanno a lavorare, ragazzi che vanno a scuola, poi piangiamo le vittime.